Flavio Togni ha mandato il suo allievo preferito, Andrea Roncato Togni! Ed ecco Andrea Roncato Togni e i suoi elefanti e i suoi cavalli! Sembra facile, ma non lo è! Con questo numero, Flavio Togni nel 1983 vinse il clown d'argento al Festival di Monte Carlo! E questa sera, al regalo di Natale, lo eseguirà Andrea Roncato! Siamo sempre Silver, eh? Guardare la disinvoltura con la quale Andrea Roncato guarda gli elefanti e i cavalli! Obediscono! Facciamo un applauso Andrea! Mi ha detto Flavio Togni che i cavalli imparano lentamente, mentre un elefante impara tutto più in fretta! La cosa più difficile del numero dei cavalli e degli elefanti è proprio dosare il tono! I cavalli sono nervosi, bisogna avere un tono fermo ma pacato e bisogna dirigerli con l'asta, indicare a loro la posizione! Gli elefanti invece vanno guidati solo con la voce, ma è necessario avere un tono più deciso! E in questi giorni Andrea si è esercitato molto! Momento delicato! Elefanti obbediscono Andrea! Oh, bravissimo! Oh, bravissimo! Perfetto! Adesso Andrea dà lo zuccherino, la carotina, ormai ha preso di mistichezza con i cavalli! Anzi, vuole entrare a far parte proprio del circo americano! Dai! Dai! Dai qualcosa anche all'elefante! Andrea, dai qualcosa all'elefante! Ci rimane male, no? Vai! Ride, Andrea, ride! Vai! È convinto, sicuro di sé! Vai! Sorride sotto i baffi! E adesso... Vai! Vai! Solo al centro della pista! Ovviamente accanto a lui c'è Flavio Togni, che controlla... che Andrea non commetta errori! Dai lo zuccherino, Andrea! È il più piccolino! Adesso Andrea viene circondato dagli animali! Vediamo! Vediamo! Bravissimo! Attenzione! Guardatelo solo! Tra gli elefanti e i cavalli! questa cosa mette molto paura per chi non è abituato a stare in mezzo a tanti animali bravo Andrea complimenti non ce l'aspettavamo da te complimenti paola ma secondo te Andrea ma come sta andando dimmi tu ma secondo te Andrea potrebbe rimanere pianta stabile qui nel circolo si si secondo me ci sta benissimo guarda proprio la stoffa del domatore adesso ci avviciniamo al finale al gran finale di questo numero una carotina a uscire tutti gli animali che poi tu devi sapere che elefanti e cavalli insieme sono molto difficili da abbinare lo sapevi? si l'avevamo ricordato all'inizio ah ma io mi stavo cambiando e non l'ho sentito è davvero un numero speciale e allora di nuovo complimentiamoci con Andrea che adesso deve mandar via l'ultimo cavallo imprevisto? 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 no non ci credo eh Andrea vai vai Rex va vai fuori 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 Rex fuori non ti dà più reda Andrea fuori Rex Andrea devi dargli ancora un po' un'altra dai se no non va ecco via fuori là è bravo bravissimo Andrea vai complimenti al nostro re arroncato bravo grazie grazie